Vieni, rilassa la tua mente e dimmi ciò che hai visto. Cose bizzarre, Valga. Vedo e apprendo ciò che la mia mente non è in grado di comprendere. Racconta. A Jotunheim cercavo e trovavo un idromele molto potente. Prometteva strani effetti. Berne un sorso mi avrebbe salvato dalla morte e mi avrebbe protetto dal Ragnarok. Con questo idromele speravo di sopravvivere alla morte. Per molto tempo. Affascinante. Ed era l'ultima visione. Non sono finite, non ancora. Qualcosa mi spinge a fare ritorno ad Asgard. L'Elysire è pronto quando vuoi. Grazie. 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 Grazie.